Eminenza Reverendissima, Cardinale Tempesta, Presidente Marco Tronchetti Provera, amici tutti, è difficilissimo trovare le parole per descrivere l'emozione che dà essere qua, in questo momento importante e storico per la città di Rio e per tutti noi. Vossa Eminenza Reverendissima, Marco Tronchera, è una grande allegria stare qui e poter dare a voi di volta tutto ciò che voi ci dà. Oggi l'Italia è presente fortemente a Rio de Janeiro non soltanto per i legami di amicizia e di fraternità che legano i nostri popoli, ma per la straordinaria presenza di tante donne e uomini italiane in Brasile e di tante donne e uomini brasiliane in Italia. Ma questa presenza è resa ancora più bella dall'arrivo della spedizione olimpica, dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, dal Presidente del Comitato Organizzatore Roma 2024 Luca di Montezemolo, perché è come se arrivando qua a Rio pronti all'inaugurazione stasera di Casa Italia e dopo domani delle Olimpiadi volessimo testimoniare questa amicizia con i colori della nostra presenza, sempre più forti, sempre più accesi. È una presenza molto bella questa da qui, falando anche della spedizione delle Olimpiadi e con questo voglio ringraziare la presenza del Presidente del CONI Malagò e di tutti gli altri che stanno qui in questo momento. E allora la scelta della Pirelli di illuminare con il tricolore italiano oggi questo santuario diocesano, così su eminenza me l'ha presentato, è il santuario diocesano più straordinario del mondo, è un modo per dire che l'Italia c'è con tutto il suo orgoglio, con tutta la sua passione, a fianco degli amici brasiliani in questa avventura splendida che sono le Olimpiadi. Quindi per Pirelli poter illuminare con il suo tricolore, che è a scuola della bandera italiana, un santuario così importante come questo diocesano, è una grande alegria per noi e per tutti gli amici qui. Non suoni blasfemo su eminenza. Ci piace pensare che il tricolore che vedremo tra qualche minuto qua, possiamo vederlo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sul pennone più alto di qualche premiazione alle Olimpiadi. Quindi, signora Eminenza, che non parezza una blasfemia, che noi possiamo illuminare il tricolore e vedere qui, che magari dopo alcune ore e alcuni giorni, noi teniamo anche altre vittorie qui. Anche per questo ci aiuta la sua benedizione, visto che è abituato a benedire dall'alto una città così straordinaria come Rio. Ma al di là della battuta e del gioco, questo gesto che la Pirelli offre a tutti noi oggi è un gesto che ci rende felici ed entusiasti. Dunque, grazie a Marco Tronchetti Provera, grazie a tutte le donne e gli uomini di Pirelli, così presenti in Brasile, grazie a lei, Eminenza, e che dire, da qua su viene fantastico poter dire viva il Brasile, viva l'Italia e viva i giochi olimpici di Rio de Janeiro. Quindi, piadas a parte, io vorrei ringraziare tanto da parte da Pirelli, del signor Tronchetti, della vostra Eminenza e poter dare un viva a tutta questa situazione di ora. Grazie. Grazie. Eminenza, la benedizione ci vuole doppia.